Da un anno Università Federico II e Questura di Napoli collaborano in diversi ambiti concentrandosi in particolar modo sull'analisi dei fenomeni criminali. Ora sottoscrivono un accordo di durata biennale, ma prorrogabile, che consentirà uno snellimento delle procedure per rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno a studenti, docenti e ricercatori provenienti da paesi extraeuropei, attualmente circa 200, a cui si aggiungono gli ospiti che si fermano per un periodo limitato. È veramente un passo importante di cui siamo orgogliosi e ritengo che sia anche un momento importante per Napoli, perché avere una Napoli internazionale piena di studenti internazionali significa anche migliorare la qualità della nostra vita in città. Presso gli uffici della Questura di Via Medina, una o due volte a settimana, dalle 9 alle 13.30, sarà attivo uno sportello dedicato all'utenza extracomunitaria dell'Ateneo Federiciano, che ha necessità di regolarizzare la propria posizione in Italia. Siamo stati molto contenti di contribuire all'attività accademica con questo sforzo organizzativo che serve a creare uno sportello dedicato per tutti i studenti, ricercatori stranieri, anche per sostenere la vocazione internazionale di questo Ateneo e di questa città.